Oggi comincia il campionato, ci sono persone nuove che cominciano quest'anno, altri, siamo qua nel terzo anno che cominciamo, è una sfida, è un progetto in cui ci crediamo tutti, che abbiamo creato assieme. Gli obiettivi di quest'anno, ragazzi, sono alti, perché questo campo, dove giochiamo noi oggi, è il nostro campo di casa, per i prossimi 15 anni noi giochiamo qua. Dobbiamo vedere l'impegno sul campo, per noi, per chi ci guarda, per i tifosi, per i dirigenti, per i mister, per chi si sta lavorando insieme. Noi dobbiamo lavorare su quelli che vanno in campo, ma lavorare anche su quelli che non andranno in campo, perché il gruppo, noi lo manteniamo solo a questo livello qua, se no si sguarda. Se prendiamo gol, siamo sempre 0-0, se facciamo gol siamo sempre 0-0, fino a quando l'Apito fischia. Per chi c'è oggi, per chi c'è stato di un escorsiano che non c'è più, per i nostri fratelli che non sono più in Italia, perché sono dovuti andare via, lo facciamo anche au hockey不会 envisci, è bulezza dire la studio, va bene, bene 20 minuti, 20 minuti... Uno, due, tre, sete, sete... Il Sant'Ambresi nel 2018 comincia come la prima squadra composta interamente da migranti, quindi rifugiati, richiedenti asilo, a iscriversi a un campionato FGC a Milano. Possiamo citare l'episodio del Parco Forlanini che si trova vicino all'aeroporto di Linate, di fianco al centro d'accoglienza di Iacorelli, capitava di trovare questi ragazzi che praticamente tutti i giorni con un pallone si recavano all'interno del parco portandosi dietro dei pali di legno che piantavano a mo' di porte e cominciavano a giocare. Dopo diverse volte che questi ragazzi sono stati visti, gli è stato chiesto prima magari di giocare insieme e poi di fare qualche amichevole e poi prima di conoscere qual era la loro storia. Un gruppo di ragazzi che vivevano nel centro d'accoglienza di fianco, strutturato per ospitarli per una durata di tre mesi, alcuni erano addirittura tre anni. Per loro il calcio diventava l'unico momento vero di sfogo, di divertimento, di espressione libera personale. Da questo gruppo di ragazzi nascono i Iacorelli Boys, che sono una delle squadre che ha dato vita poi al Sant'Ambreso. Oggi, all'inizio della terza stagione, la squadra non è più composta interamente da migranti, ma è composta anche da ragazzi italiani, che anche loro erano stati esclusi da quello che è il calcio. La scelta di iscriverci al campionato FGC è anche quella di rapportarci con quella che possiamo chiamare la realtà dei fa. Apprezziamo che c'è anche tanta gente che conserva, se non addirittura fomenta, pregiudizi che portano alla discriminazione. Essere in FGC vuol dire anche scontrarsi con queste realtà. A portare degli adolescenti coitanei, di quelli con cui ti scontri sul campo, che provengono da un altro paese, da un altro continente, metti in mostra come quanto certi pregiudizi possano essere fallaci. Certi slogan politici non trovano poi concretezze in un campo da calcio, dove il pallone gira e dove quando si esulta, si esulta tutti insieme. Indipendentemente se chi ha segnato è arabo, è africano, è italiano, è est-europeo. Quando la partita comincia si è tutti uguali, si comincia sempre sullo 0-0 e ognuno ha la possibilità di esprimersi. Come se ogni calciatore fosse un artista che trova sul campo una tavolozza bianca all'interno della quale si può esprimere. Molti ragazzi, in tutto il mondo, anche qui a Milano, non hanno la possibilità di esprimersi per mancanza di documenti, di soldi, per mille ragioni. Cioè dare la possibilità a tutti di giocare a calcio significa dare a tutti la possibilità di esprimersi e di far vedere cosa sono in grado di fare. Non chiediamo un euro a nessuno dei giocatori, forniamo tutto il materiale, ma soprattutto prendiamo tutte le decisioni in maniera orizzontale. Ogni giocatore è socio della squadra, così come lo sono i tifosi e i dirigenti. Seguo il Sant'Ambres perché già da quando ero al liceo sentivo molto vicino a questa problematica dei flussi migratori che negli ultimi anni hanno avuto un boom dovuto a guerre, carestie. È un modo di viversi il calcio completamente diverso, che non è quello del calcio moderno, che non è il calcio della Serie A, dove non sono messi insulti razzisti, dove anzi l'essere tutti metici, l'essere tutti di un paese diverso, è un valore aggiunto rispetto a quello che è la normalità. Abbiamo una tifosoria che è molto legata comunque a quella che è la dirigenza ed è una cosa molto particolare che non hanno altre squadre. C'è questa tifoseria che è chiamata Armata Pirata 161, che sono principalmente ragazzi del liceo o comunque ragazzi giovani che hanno iniziato a seguire la squadra e ha da supportare anche la squadra sia a livello di tifoseria che a livello anche logistico. Non si vede il calcio in quella prospettiva di tifoso che la domenica cambia assolutamente il suo modo di essere per vedere una squadra che gioca a calcio, ma è viverci una squadra tutti i giorni, stare con i ragazzi, uscire con loro anche banalmente, insomma essere un gruppo di amici semplicemente. Noico 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 Ricadvi tanti messaggi dei tifosi del Sant'Ambro, soprattutto quelli di Armata Pirata che sono sempre who noi, ovunque e per sempre. Noico Durante la partita i miei tifosi mi danno il coraggio, quando li sento gridare sui spalti i tifosi dei avversari, quelli non mi interessano molto perché non li ascolto, io mi concentro sul mio calcio. Mi incasso quando uno mi dice che sei bianco o bianco di merda, mi incasso perché non lo sono, ma se uno mi dice nero sono contento e lo ringrazio perché lo sono e sono fiori. Penso che il rassismo è un grande problema nella società, è una malattia ambientale, io la penso così, un rassismo è uno che non sta bene. It's definitely worth it, bella It's cold Quando ero in Siena, quello è stato di paracalcio. Quando ero elementare, organizzavamo i torneo tra le classe. Mi è piaciuto subito perché poi guardando le partite in tv, mi ricordo l'Italia quando aveva vinto il mondiale, mi piaceva anche Cannavaro come difensore centrale, mi ha fatto piacere il calcio. Dal Senegal in Italia ho fatto un brutto viaggio, è meglio di non ricordarmi, passando per la Libia. In Libia, lo sappiamo tutti com'è la situazione lì, è stato un po' difficile dal Senegal in Italia, però per fortuna sono passato lì tranquillamente, non mi è successo niente. Ero in Senegal per 17 anni, sono arrivato qua in Italia a minorenni, ero in centro minorenni in Sicilia. Lì ho fatto la scuola a terza media un anno, poi mi sono trasferito a Milano e mi sono messo a giocare a calcio. Io giocavo in Villa Pisone, poi a un certo punto ho scoperto il Sant'Ambrose e sono trasferito direttamente. Lavoro come la sicurezza, il mio lavoro è la mia vita. Se non vado al lavoro mi sento strano, perché senza lavoro ho un'altra vita. L'Italia mi ha dato tanto. Mi sento come un'italiana, anche se non esiste un italiano nero, però chi lo sa quando sarò un professionista, chi lo sa se gioco per l'Italia. Nel futuro c'è avere una famiglia, vivere la mia vita tranquillamente. Soprattutto avere rispetto nei confronti della gente in cui vivo. Allora... Eure... ... Grazie a tutti Viviamo in una società che non è quella che ne vorremmo purtroppo ancora Quindi ci sono stati episodi, in particolare uno, in cui ci siamo dovuti un po' scontrare a livello di realtà con squadre che hanno utilizzato il colore della pelle dei nostri giocatori come un insulto Non che nelle altre squadre di Serie A non ci siano ragazzi di altre nazionalità Ma lo sappiamo tutti, nelle altre tifoserie purtroppo il razzismo è una cosa molto presente Abbiamo visto con ululati in campo, scimmiottamenti che purtroppo capita di vedere anche in terza categoria Il momento più bello invece è trovare altre tifoserie che invece capiscono quello che è il tuo obiettivo con la tua squadra Che non è solo vincere la partita ma questo processo di integrazione e che quindi vengono da te a fine partita a complimentarti per il progetto O che durante la partita sì certo c'è quel momento di rivalità perché sei contro di loro Ma che in realtà sono mega felici che fanno qualche coro anche con te Ma che in realtà sono mega felice Per un ragazzo che nasce a Milano in Italia o in qualunque parte del mondo avvicinarsi al calcio è abbastanza facile Il calcio è sempre stata una mia passione Crescendo e vedendo come si è sviluppato il calcio moderno cosiddetto quindi sempre più legato a dinamiche di business Dove la passione conta sempre di meno ma contano più ad altri interessi c'è stato un disinnamoramento Consapevole però della rilevanza che lo sport ha nei processi educativi soprattutto degli adolescenti Ho deciso di interprendere un progetto personale in particolar modo in Africa In tre paesi tra Zambia, Kenya e Tanzania dove ho vissuto per un anno fondando squadre di calcio Utilizzando il calcio come strumento per l'inclusione e per l'emancipazione sia individuale che collettiva Questa esperienza mi ha veramente fatto ritornare la passione per questo sport sia giocato che non E mi ha fatto veramente vedere come il pallone può essere uno strumento in grado di unire In grado di unire me stesso con realtà diverse, con lingue diverse, con culture diverse E anche come strumento veramente di emancipazione e di riscatto personale Noi come Sant'Ambres lavoriamo con un giro largo di oltre 50 ragazzi Non tutti questi la domenica possono scendere in campo con noi Nonostante si allendino due volte a settimana e abbiano qualità che magari garantirebbero anche l'accesso a categorie superiori Per via di documenti mancanti come per esempio la residenza o una carta d'identità o un permesso di soggiorno Magari non in periodo di validità sono costretti a rimanere sugli spalti la domenica Questa per noi è una sfida Noi abbiamo deciso di giocare in FIGC rispetto ad altre federazioni magari Che hanno più disponibilità a passare sopra queste cose Perché vogliamo mettere in mostra quelle che sono le contraddizioni anche della federazione del gioco calcio Che cerchiamo in ogni modo di contattare e di rendere consapevoli Di facilitare il tesseramento di ragazzi giovani che semplicemente vogliono giocare a calcio Lo sport è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto insieme al diritto al gioco È uno strumento incomparabile ed educativo Quindi sia dall'adolescenza sia dall'infanzia ma anche in età adulta È dalla possibilità di conoscere se stessi, di conoscere altre persone, di mantenere uno stile di vita sano È un diritto e con quanto diritto deve essere garantito È un diritto e conoscere un diritto È un diritto e conoscere un diritto È un diritto È un diritto e conoscere un diritto Ri Roger Luis